Riescoltare ovviamente in podcast questa trasmissione per andare su Radio Barza Italia su speaker.com cercando Radio Barza Italia oppure su Radio Roma Futura.it oppure sulla pagina Facebook di Radio Roma Futura della Pegna Blogana Roma o di Radio Barza Italia su Twitter Chiocciolina Radio Barca Ita o Chiocciolina Blogana Roma o Chiocciolina Radio Roma Futura. Abbiamo detto tutto, auguriamo una buonanotte ai nostri ascoltatori la settimana prossima sapremo se Monemar sarà un giocatore del Barza oppure è rimasto nella sua prigione dorata del Paris Saint-Germain lo vedremo solo vivendo. Un abbraccio a tutti, buonanotte, visca al Barza, visca a Catalunia, visca a Roma e la Pegna di Roma. Arrivederci! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ha avarato il Leo Alberto, ha avarato il Leo! Salì genio della lampara, salì la reputa madre che ti pariò! Dale, vamos, salì! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Sì, del sud o del nord Sì, del sud o del nord Sì, del sud o del nord Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.